Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della Big Vanilla Si sta per fare notte? Di già? Ma perché ultimamente è sempre notte in questo mondo? E ragazzi nello scorso episodio abbiamo craftato un'armatura stupenda e anche la spada di nederite d'oro Infatti ragazzi ora abbiamo molta più protezione e soprattutto siamo molto molto più belli Quindi quest'oggi ovviamente faremo la stessa identica cosa però con il corpetto Ma soprattutto voglio cercare di capire da dove vengono quei mostri Mi avete dato delle teorie piuttosto interessanti Secondo voi gli update, i big update vengono fatti dalla regina Però quelli malvagi quindi i mostri, le particelle nere eccetera Vengono fatti dal big ladro e secondo me questa è una cosa molto molto valida Secondo me avete ragione e nonostante ciò ragazzi mi avete detto che ho dimenticato delle robe all'interno di questo bari No, di questo barile ecco E avete ragione dannazione vi ricordate quando abbiamo fatto il cambio villaggio durante la guerra dei regni? Avevo messo molte cose all'interno di questo barile Tra cui un'armatura più potente di quella che ho adesso e soprattutto nuova e soprattutto con mending Quindi perché mi sono tenuto quella più scarsa se c'ho quella più forte qua? Quindi cambiamola immediatamente questa la rimettiamo qua Poi ci abbiamo un elmetto con protezione e respirazione, unbreaking e mending Credo che sia uguale al mio No, è anche più forte di questo qua Ma perché non ho preso l'armatura migliore dall'inizio allora? Protection, depth stride, mending, unbreaking Depth stride, protection, feather falling, unbreaking e mending Molto meglio questi qua Poi abbiamo un arco con... Power, 4 flame, punch, mending e unbreaking E il mio invece ha solo power, 5 flame e unbreaking Ah, interessante Interessante sì Poi il piccone credo sia uguale Sì, è identico Ci abbiamo il lascia passare di loco Vi ricordate? Poi cos'altro? 15 blocchi d'oro Mamma mia 2 blocchi di diamante E una spada a dir poco assurda L'unica cosa è che questa spada c'ha sharpness 4 E la mia ha sharpness 5 Quindi mi tengo volentieri la mia Allora, vediamo se ho abbastanza livelli da unire Questi due archi per avere tutti questi effetti No, infatti Troppo costoso Troppo costoso Perché sono troppi effetti Sono troppi poteri Però a questo punto ragazzi Non so se mi conviene utilizzare questo Che ha mending e unbreaking O se utilizzare questo che ha power 5 Facciamo così Per adesso mi tengo questo E questo qua lo mettiamo qua Anzi L'arco buono ragazzi Lo mettiamo nell'ender chest Che non voglio che qualcuno me lo rubi Anche se in realtà Nessuno ruba nella big vanilla Per fortuna Ma soprattutto ragazzi Quest'oggi abbiamo tante altre cose da fare Abbiamo della nuova nederite Quindi posso fare anche il corpetto In nederite di ferro E poi in nederite d'oro Il ferro ce l'ho No, non ho il ferro Devo andarlo a prendere un attimino nelle cieste Ok, tanto ne avevo tantissimo Se non sbaglio questo l'ho rubato Dalla farm Di loco Credo Ah ma c'ho anche dei libri qua Vediamo Fair aspect Loyalty Protection Mending Mending mi serve Protection 3 Mending Mending Ok aspetta Dove devo mettere mending? Mending ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Qua non ce l'ho Ok mettiamo Mending nella spada Allora Bene E' stato un bene ragazzi Controllare il mio magazzino Sapete che sono molto disordinato E spesso mi scordo queste cose Ehi Mi raccomando Lasciate un mi piace a questo video Se volete degli altri video Della Big Vanilla Perché mi sto impegnando A portarne altri Come ben sapete ragazzi Ecco Aggiungiamo Mending Alla spada del Big Guerriero Dicevo Come ben sapete La Big Vanilla Sta ricevendo questi Big Update Proprio per evitare Di Abbandonarla Tra virgolette Perché ormai avevamo fatto Praticamente tutto ciò Che c'era da fare In Vanilla E quindi in questo modo Accontentiamo tutti quanti Noi possiamo portare Degli altri video E voi siete contenti Di guardarli Adesso Io avevo Dell'altra nederite Infatti Eccola qua E E La trasformiamo Immediatamente In nederite normale Prima di tutto Anche se possiamo fare Soltanto un lingotto Ma tanto uno ce ne serve Dobbiamo fare Soltanto il corpetto Uno Aspetta Ce ne servono due Perché me lo scordo sempre Certo Ci servono due lingotti Per fare il corpetto d'oro Perché Così riusciamo a farlo Solo di ferro Adesso abbiamo bisogno Di un altro scrap Per farlo diventare d'oro Vabbè Allora Di ferro è già Meglio di niente ragazzi Oh mio dio Ma cambia totalmente Ok Bene Abbiamo l'armatura Adesso di ferro Ma quanto è bella Questa armatura No ragazzi Io sono Sono ossessionato Esteticamente È stupenda E non vedo l'ora Di poter fare le altre Perché se non sbaglio Esistono delle altre Combinazioni Sia con gli smeraldi Che con i diamanti Allora Facciamo così Andiamo Di nuovo Nel nether Per prendere soltanto Un detrito antico E cerchiamo di capire Allora Quella non c'è Ragazzi No È tornato il mostro Eccolo È lui È lui È lui Stavo dicendo Cerchiamo di capire Mannaggia Ma chi ha piantato qua Questi cosi Porca miseria Fermi Non mi potete intrappolare Mamma mia No 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 Cosa sono queste esplosioni Ragazzi Porca miseria Stavo proprio per dire Cerchiamo di capire Aiuto Fanno malissimo Via 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 Devo scappare Devo scappare Devo scappare Mangia e rigenera Mangia e rigenera Ragazzi C'ho un set di armatura Completo Potentissimo E nonostante ciò Ci stavo quasi morendo Morite Dannazione Andate via Dal mio giardino Oh mio dio Mi hanno bloccato Morite Morite Ok Uno è morto Ne resta soltanto un altro Da uccidere No 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 Sono troppo forti sti cosi Questi sono stati aggiunti sicuramente dal big ladro ragazzi Per darci fastidio Ci posso scommettere quel che volete Guarda quanto è forte Non riesco a ucciderlo Mi blocca in continuazione nelle ragnatele E mi tira delle pozioni potentissime Devi morire Muori Ok è morto No un altro Basta No basta basta Mi devo barricare in casa ragazzi Chiunque siano questi zombie e questi mostri Sono troppo Pericolosi Non possono entrare dentro vero? No no è impossibile Figurati se riescono ad entrare all'interno dei miei dungeon Catacombe Ok Sono convinto Sono sicuro al 100% Che questi mostri malvagi Siano stati aggiunti dal big ladro La regina non l'avrebbe mai fatto Figurati Quindi Credo che abbiamo risolto il mistero Dov'è? Dove sono? Dov'è? Ragazzi Oh mio dio era invisibile Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Guardate Continuano a spuntare queste stupite ragnatele Posso andare a dormire Dove? 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 Chi? Chi? No I fulmini Ma chi sei? Aerobrine Scusa come Ma quanti siete soprattutto? Oh mamma mia No ragazzi Ok uno è morto Mi ha droppato un elmetto Devo scappare ragazzi È un'invasione È un'invasione di zombie Che cavolo Ma sono difficilissimi da uccidere Cioè io c'ho un'armatura iperpotente Nonostante ciò fatico Vi rendete conto di quanto sono forti? Muori Ok Cosa mi hanno droppato? Protezione 2 Protezione dei proiettili Protezione 3 Ma cosa sono sti drop? Ti immagini mi droppano anche la nederite? Ok c'ho il totem Usiamolo Che non si sa mai a questo punto ragazzi Ognuno di loro Sembra avere degli effetti diversi E guardate quanta vita hanno C'è la mia spada È potentissima E nonostante ciò ci metto 80 spadate a ucciderli Allora Devo andare a dormire Basta La scorsa volta Nello scorso video Sono andato a dormire Ma la notte non è cambiata È rimasta la notte Ora vi faccio vedere ragazzi Senza tagli Senza nulla Che Ok si è fatto giorno Perché l'altra volta non si è cambiato? Cioè sponono ragnatele Tirano pozioni Fanno malissimo Hanno molta più vita Cosa cavolo sono Questi nuovi mostri? No Non esplodere Non ci provare Cosa? Gli è rimbalzata contro? Perché? Perché? Perché sono diventati molto più difficili Da uccidere i mostri? No Non ci penso nemmeno a guardare l'enderman L'enderman Non lo guardo nemmeno ragazzi Entriamo nel nether E andiamo alla ricerca Dell'ultimo pezzo di netherite Va che è meglio Porca miseria Non è possibile così Non è possibile Ok grazie al cielo Qualcuno ha riparato Ah no Se ne è soltanto ricreato un altro? Ok Va bene Va bene Minecraft Non faccio domande Iniziamo a scavare E andiamo alla ricerca Delle netherite Ce ne serve soltanto uno Oh Ho trovato di già Ok Allora in realtà Ci servirebbe Una specie di farm Di netherite Perché se voglio creare Tutte le altre armature Quindi quella di smeraldo Quella di diamante Avremo bisogno di Tanta 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 E per tanta ragazzi Intendo dire Proprio tanta Netherite Però come fai a creare una farm Cioè non esistono le farm Di netherite no? Ok ragazzi Fatemi sapere nei commenti Se esistono le farm Di netherite Perché se esistono Ne devo assolutamente Creare una Se voglio fare tutto il set Dell'armatura La spada E tutto quanto Avrò assolutamente bisogno Di molta Più netherite E non posso andare sempre A scavarla Ad uno ad uno Ci metto veramente troppo Non è efficiente Per nulla Quindi Il mio unico obiettivo D'ora in poi Sarà quello di creare Una farm di netherite Contatterò Loco E gli dirò Loco Ti pago in netherite Se mi crei una farm di netherite Oh mamma mia No 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 Allora Ne ho Altri due Quindi dovrebbe bastare Posso farci sicuramente Il corpetto E allora a questo punto Direi di uscire da qua Siete pronti ragazzi A vedere il set Completo Di netherite d'oro A me questi nuovi Big update Mi stanno piacendo tantissimo Comunque A parte quello dei mostri Ma ripeto Quello secondo me Non l'ha fatto fare È impossibile Quello lì È opera del big ladro Che sta cercando Come al solito Di metterci i bastoni Tra le ruote Forse ho capito Per ogni cosa buona Che viene aggiunta Lui ne aggiunge Una cattiva Oh mio dio Vuoi vedere Che ho ragione Allora Creiamo un altro lingotto Benissimo Adesso lo dobbiamo Trasformare in lingotto Di ferro Cioè ogni volta Questo processo Ragazzi è super costoso E ora dal ferro Lo facciamo diventare In oro E adesso Possiamo fare L'upgrade Bam Ecco la nuova Oh mio dio È bellissima Ma stiamo scherzando Guardate quanto è bella Ragazzi Sembra un vero e proprio Imperatore Adesso Mamma mia Mamma mia Non vedo l'ora Di provare Quella di smeraldo E quella di diamanti Ragazzi ci dobbiamo Mettere al lavoro Devo trovare Tutti i materiali Della big vanilla E dovranno essere Tutti miei Io spero che questo video Vi sia piaciuto Come al solito Lasciate un super mi piace Per supportarmi Dal vostro candle È tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao